Lorenzo Domenichini, second out, bellissima vittoria qui a Parma al Bertinelli Fine Night. Allora, qual è stata la strategia per la vittoria di questo match, oltre tanto allenamento? Mi sono preparato bene per questo incontro, ho fatto tanto allenamento, più di due mesi di allenamento. E in splendida forma si vedeva che eri estremamente esclusivo. Ho deciso di partire, come parto di solito, cattivo da subito, mi è andata bene. Bene, senti, allora second out, sempre al top, grandi atleti e grandi eventi come questa sera. qui al Bertinelli Fine Night. Bellissimo combattere davanti a così tanta gente che applaude, mi piace molto. Allora, fantastico, in bocca al lupo, al prossimo match. Grazie, ciao.